Ecco, San Giuseppe è un compagno che ci guida proprio attraverso questi giorni di Quaresima a prepararci degnamente alle celebrazioni pasquali, perché ciascuno di noi possa vivere davvero nella fede un cammino di conversione e celebrare la Pasqua con un cuore rinnovato. Affidiamo allora a San Giuseppe le nostre necessità, i nostri bisogni, soprattutto in questo tempo di pandemia che ci vede così angosciati anche per quanto accade in ragione di questo virus che già ha metuto tante vittime, che continua a far soffrire tanta gente, che ci impedisce di vivere una situazione, possiamo dire, normale della nostra vita. Affidiamo a San Giuseppe anche l'intercessione perché Dio ci liberi da tutto ciò e ci faccia tornare a vivere la nostra vita umana e la nostra vita cristiana nella bellezza di quello che è e nell'espressione che noi possiamo dare a questa vita. Che San Giuseppe accolga i nostri desideri e così come ha custodito la Sacra Famiglia, la Madonna, il Bambino Gesù, possa custodire tutti noi, soprattutto in questo momento, e possa intercedere da Dio questa liberazione. Sialo d'altro Gesù Cristo. Grazie a tutti.